Noi il primo tempo forse abbiamo avuto qualche occasione in più rispetto a quelle che ha avuto poi il Pomigliano nel secondo tempo. Io ricordo più o meno una, massimo due occasioni nel Pomigliano nel secondo tempo. Forse però la più limpida di tutte e anche nel secondo tempo l'abbiamo avuta noi con Tozzi, con quella palla messa da Guadaluppi alle spalle della difesa avversaria. L'assistente ha dato un tocco di mano e quindi ha fischiato la punizione. La partita dei miei è stata giocata come l'avevamo preparata, nel senso che sapevamo di trovare una squadra molto fisica di fronte, una squadra in salute che aveva fatto bene nelle ultime gare, una squadra con giocatori di categoria e una società che la Serie D la conosce bene. Noi allo stesso tempo ci abbiamo messo di tutto per poterla vincere, è venuto fuori questo pareggio, però come ho detto anche in precedenza io non posso rimproverare nulla ai ragazzi per l'impegno che ci hanno messo. Passa anche di qui la crescita della nostra squadra.